Piano, ma non troppo piano. Gira e tira. Va bene, più forte, più forte. Dai, 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 che ce la fa. Gira, vai, tira. Purtroppo in ritardo. Dai, dai, perché va bene. Però prenda il punto. Dai, vai più, tira. Eh, eh, eh. Non stiamo facendo i piccioni. Il luce, il campo va lungo. Vai, vai. Quasi. Più che altro perché non è che salta proprio. Se lo tiro troppo alto salta un po' così. Ok? Quindi, non so come sul lungo che si cade. Perché se lo fai sul lungo, troppo lungo, il disco cade non succede niente. Se lo fai in alto, il cade a candela non è il massimo. Lungo. Va bene, meglio.